Ladies and gentlemen, dagli studi di 091 TV va in onda una nuova puntata di Face to Face. Buonasera ai nostri telespettatori, una puntata nuova di Face to Face con in compagnia di Alberto Firenze. Benvenuto Alberto, lui è professore universitario di medicina, naturalmente di igiene e medicina, giusto? Sì, igiene e medicina preventiva è la mia specializzazione, io insegno alla facoltà, alla scuola oggi di medicina e chirurgia nel corso di insegnamento di igiene e medicina del lavoro e quindi in base alla mia specializzazione questo è il mio insegnamento. E poi Perobbi è anche presidente, dico Perobbi perché non guadagna nulla, è presidente dell'ente regionale per il diritto allo studio universitario, che è un tema che voglio dedicare in questa puntata. Per questo ti abbiamo voluto fortemente Alberto, perché di Ersu se ne parla tanto, o per meglio dire ne parlano chi vive l'Ersu, ma all'esterno non si sa nemmeno cos'è. È un ente chiaramente regionale, quindi finanziato un po' dal ministero e in parte anche dalla regione, e chiaramente questo strumentone così importante è a sostegno degli universitari e degli studenti. Allora cosa fa? L'Ersu eroga servizi e benefici per aiutare i giovani a essere, come dire, buoni studenti universitari, ma soprattutto ottimi cittadini. Questo è un piccolo spunto che abbiamo preso alla tua presentazione. Assolutamente sì. E quindi quotidianamente cosa fa? Gli affronti tutti quelli che sono i problemi di questi ragazzi per poterli fare studiare nella massima tranquillità e soprattutto garantire loro, specie in casi molto delicati, quindi quando ci sono difficoltà anche di tipo economiche, di poter stare in queste città e studiare presso la nostra università. Ersu naturalmente oltre che dialogare con queste istituzioni competenti, che sono quelli che finanziano annualmente questo istituto, naturalmente si confronta anche con i cosiddetti capi rappresentanti degli studenti stessi, che in qualche modo dialogano e esprimono quelle che sono le loro esigenze, le loro esperienze, i loro problemi, ma anche si rendono operativi per l'Ersu stesso. Ora, perché sei qua? Perché intanto vogliamo capire come funziona questa macchina. A chi è aperta? Se è aperta solo ai palermitani, se è aperta all'esterno, se ci sono anche possibilità di sfruttare misure che aiutano a chi studia, per esempio da Bologna e vuole studiare a Palermo. Siamo noi che partiamo da Palermo e da Bologna. Ai messi nell'ultimo periodo. Però ultimamente dobbiamo anche pensare e essere ottimisti e quindi pensare che un giorno questa università possa essere anche ambita tra tanti altri studenti che vengono dalle altre regioni, se non fuori dall'Italia. L'Ersu è l'ente regionale, come hai detto tu, l'ente regionale per il diritto allo studio universitario. Nasce in base a una legge del 2002 con l'intento chiaro, raccoglie in qualche modo l'eredità dell'opera universitaria e ha l'intento e la mission di fornire servizi a quegli studenti che in qualche modo, oltre che per merito, si trovano in difficoltà, con una necessità economica, quindi una difficoltà economica. Quindi il supporto è permettere a tutti gli studenti, senza distinzione di età, di sesso, di razza, di certo sociale che sia, di rendere al meglio per la nostra collettività. L'ente regionale per il diritto allo studio riceve tre forme di finanziamento. Una fonte di finanziamento è data dal contributo di funzionamento che viene erogata dalla regione siciliana. L'ente regionale dipende e si ritrova all'interno dell'assessorato regionale formazione ed istruzione, quindi in qualche modo ha una stretta sinergia con l'assessorato, quindi dipende da questo assessorato. L'altra fonte di finanziamento è data dai fondi MIUR, quindi dal Ministero, e una terza fonte è data dalle università, quindi l'Università degli Studi di Palermo, l'Accademia, il Conservatorio, la Lumisa, perché noi comunque forniamo servizi per tutti gli studenti, non soltanto dell'Università degli Studi di Palermo, ma anche del Conservatorio e dell'Accademia, quindi sono enti diversificati che nel raccogliere le tasse di iscrizione degli studenti hanno al proprio interno una quota, 140 euro, che è la tassa di diritto allo studio, che viene stornata all'ente regionale per il diritto allo studio per fornire questi servizi. I servizi sono fondamentalmente di tre tipi, il contributo tipico per l'assegnazione della borsa di studio, il contributo, o meglio, il postoletto per chi ha esigenze, e questo è legato molto a tutti i soggetti fuori sede, e quindi si apre anche al territorio, in particolare le province di Trapani, di Agrigento, che in qualche modo poi confluiscono sull'area metropolitana di Palermo, e il terzo servizio più direttamente a cui gli studenti sono interessati è legato alla ristorazione, quindi la possibilità di usufruire della menza universitaria. Quindi questa borsa di studio effettivamente non è proprio la borsa di studio, ma è la borsa economica per fare studio, nel senso che gli pagate... Noi diamo materialmente una borsa di studio per permettere loro di, nelle proprie esigenze, per pagarsi le tasse, cioè che possa servire agli studenti per le normali attività, oltre ovviamente ad avere... tu partecipi a un bando, e nel bando puoi partecipare alla borsa, al postoletto, a entrambi, al servizio di ristorazione, al cosiddetto tesserino menza, abitualmente conosciuto. Quindi significa che l'Erso ha anche delle proprietà, cioè ha degli immobili che ha messo a distinzione? Noi su Palermo in questo momento abbiamo anche una sede ad Agrigento e una sede a Trapani. Su Palermo abbiamo sei residenze operative in questo momento e operanti, una in via di definizione, quindi entro poco, anzi dovrebbe essere già pronta, ma per le solite lungaggini che non dipendono da noi, ma dalla magistratura, perché ci sono i ricorsi tra le ditte che si aggiudicano i lavori, ovviamente si sta ritardando, ma abbiamo una settima residenza, che è la vecchia struttura dell'hotel Patria, che da qui a breve dovrebbe essere riaperta. E' più, questo per tutti ovviamente, le possibilità che diamo di assistenza, di residenzialità agli studenti. Abbiamo anche nell'ambito di questo percorso una sede che è destinata alla foresteria di docenti e universitari anche di altre realtà che vengono per un periodo di studio, per un periodo limitato, che è lo storico Hotel de France, che è in Piazza Marina. Oltre a queste borse di studio, poi non c'è quella borsa di studio che si dà per la qualità dello studente, per obiettivi raggiunti dallo studente, oltre che per la discriminazione tra uno studente che sta bene o uno studente che sta male economicamente. Sì, noi abbiamo sia la borsa di studio per il merito, sia facciamo anche un bando suppletivo per sussido straordinario. Perché è sempre gestito da voi, giusto? Sempre gestito da noi. Ma anche l'ERSU deve raggiungere obiettivi, perché se non ricordo male, voi più raggiungete gli obiettivi prefissati, più raggiungete quelle premialità che vi permettono anche di avere altri benefici. E' così? Eh sì, la premialità è una premialità ministeriale che in qualche modo tiene conto della tempistica con cui noi riceviamo le altre fonti di finanziamento. Ah, la premialità è data solo da questo? Sì, paradossalmente se la Regione ci dà il contributo di funzionamento entro il 31 dicembre dell'anno accademia, quindi nel caso 2015-2016 entro il 31 dicembre 2015, se l'università o gli enti che sono in qualche modo collegati all'ERSU danno il corrispettivo della tassa di diritto dello studio di cui è competente l'ERSU entro il 31 dicembre, riusciamo ad avere una capacità di ottenere la premialità ministeriale, di avere ulteriori finanziamenti dal Ministero e questo ci permette paradossalmente di aumentare il numero di borse di studio da dare. Se non ho capito male, se la Regione vi ritarda perdete la premialità per colpa della Regione? Paradossalmente sì. È così? Sì, e anche se l'università, anzi, per quest'anno... Allora si perde sempre? No, negli ultimi anni sì, dai dati che io ho visto, io mi insedio alla fine del 2014, quindi da appena un anno. Per esempio quest'anno, siamo nell'anno accademia 2015-2016, per la prima volta, nell'ultimo quinquennio, l'Università degli Studi di Palermo ci ha dato una parte del tasso di diritto dello studio entro il 31 dicembre. L'università è riuscita? Quest'anno una piccola parte è riuscita a darci, sui 6 milioni e mezzo che deve darci di euro, che l'università su per giù è la quota così identificata, in base ovviamente al numero di iscritti all'università, l'Università degli Studi di Palermo ci ha dato un milione di euro, che ci sta permettendo per adesso, in un momento di difficoltà economica importante, perché la Regione quest'anno non ci ha dato nemmeno un euro, ahimè tutti gli enti ne hanno sofferto. Non paga nessuno. Ha sofferto, però dico, stiamo riuscendo a dare qualche borsa di studio agli studenti. Siete riusciti nel mio caso. Ma l'Ersu non fa solo questo, si occupa anche di attività culturali, insomma. Vedo che vi estendete anche in altri settori molto importanti, che si incrociano con le volontà e con i piaceri dei ragazzi. Noi da un anno a questa parte stiamo tentando di recuperare un vecchio percorso che esisteva all'Ersu, l'Ersu era prima dieci anni fa, più dieci anni fa, veramente un luogo, un'officina di produzione culturale. Abbiamo voluto recuperare una serie di attività con il coinvolgimento delle associazioni studentesche. Noi puntiamo molto all'interno del nostro ente e dare spazio agli studenti, ovviamente. Anche nella produzione di eventi che possono in qualche modo servire alla loro crescita culturale, ancora di più della loro crescita professionale, perché le due cose vanno di pari passo. Immagina che per la prima volta nella storia dell'ente il vicepresidente del Consiglio di Amministrazione dell'ente, che è diretto da me, è stato individuato, è stato indicato una studentessa. Quindi è stato uno dei miei primi atti, ho voluto fortemente che ci fosse questo legame con gli studenti, individuando un componente del Consiglio di Amministrazione tra la componente studentesca. Quindi una ragazza, Simona Perricone, che fa parte del nostro Consiglio e che è il vicepresidente dell'Ersu, proprio per cercare di collegare sempre di più e fortemente le esigenze degli studenti che soffrono pesantemente le innumerevoli difficoltà della realtà siciliana, non soltanto dal punto di vista lavorativo, ma anche dal punto di vista di inserimento universitario. Quindi a me interessava rafforzare questo rapporto. Ma avete siti che potete sfruttare in esclusiva per i vostri spettacoli, per le vostre mostre? Noi all'interno delle residenze, siccome le nostre residenze sono dislocate sull'intero territorio della città di Palermo e siamo in procinto di aprirne un'altra anche a Caltanissetta, in collaborazione con il Consorzio Universitario di Caltanissetta, quindi un'opportunità in più anche per quegli studenti che vivono in quel territorio e che studiano nella sede di Caltanissetta. Le nostre residenze a Palermo sono delle strutture in qualche modo interessanti anche da un punto di vista architettonico, abbiamo spazi, abbiamo un teatro all'interno della residenza San Saverio che viene utilizzato, abbiamo inaugurato di recente, nel ricordo dei ragazzi deceduti nei tragici fatti di Parigi del 13 novembre, abbiamo inaugurato la sala Bataclan, abbiamo la Santissima Annunziata dove abbiamo aperto di recente uno spazio della memoria nel ricordo della Shoah, al Santi Romano, lo Schiavuzzo, anche allo Schiavuzzo abbiamo fatto una manifestazione in collaborazione con gli altri enti europei per il diritto allo studio con il tentativo, stiamo lavorando su una progettazione europea nell'ambito di Erasmus Plus per la diffusione della dieta alimentare mediterranea nelle mezze universitari d'Europa. quindi è un'altra scommessa che ci siamo messi sulle spalle per... Mi è preceduto perché ti volevo chiedere se appunto l'Erso poteva adoperarsi facendo progettualità... Io ho appena insediato, qualche mese dopo ho attivato l'ufficio progettazione europea con due figure, con due risorse umane che stanno lavorando su questo. Sei riuscito anche a trovare figure... Li ho recuperato da altri assessorati dove facevano poco, quindi... Perché è molto complicato, abbiamo visto che in Sicilia si parla tantissimo di Europa sappiamo che abbiamo perso tantissime risorse sappiamo che abbiamo perso risorse per colpa della politica, per colpa di vice amministra... Ma non trovi giusti professionisti in grado di progettare? Noi abbiamo fatto proprio un'indagine con le nostre telecamere abbiamo provato a chiedere, a cercare anche all'interno degli assessorati sono figure difficilissime... Le tue sono competenti o stanno facendo esperienza? No, 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 sono persone che avevano già lavorato fra l'altro abbiamo anche fatto un mando per consulenti gratuiti tra gli studenti ci sono anche studenti che ora sono già laureati che hanno esperienza, che ci stanno supportando quindi comunque si è creato attorno anche alle risorse umane presenti in Erso un'attenzione da parte della componente di ex studenti diciamo che vogliono continuare a collaborare con noi. L'università secondo me dovrebbe muoversi in maniera più decisa nel senso che bisognerebbe creare delle facoltà se non delle sezioni all'interno delle facoltà che trattassero proprio la progettazione europea. Ma su questo rettore da poco insediato lo ha insedito come momento fondamentale della sua missione d'azione quindi fra l'altro lui è uno, il professore Micari è molto esperto nel settore ha seguito direttamente quando era presidente della scuola politecnica quindi comunque io stesso mi sono avvicinato al mondo dell'internazionalizzazione nell'ambito mio ospedaliero grazie a lui quindi comunque uno particolarmente sensibile e attento a queste problematiche sono sicuro che stiamo lavorando con tutta una serie di progetti condivisi che anche su questo settore troveremo forme di collaborazione. Parliamo adesso di bandi che stanno uscendo anche attraverso l'Erso. Abbiamo visto che c'è anche un progetto che si chiama che riguarda Gio Petrosino in qualche modo e che ha scadenza il 29 febbraio 2016 un modo per fare come dire attività culturale un modo per aiutare gli studenti a comprendere il linguaggio musicale attraverso storie, avventure vere che sono successe in Sicilia o altro? No, no, questo rientra proprio in quel percorso di ricrescita culturale dell'ente stiamo valorizzando tutto quello che è la storia anche passata. Ma costi per voi questo tipo di attività? Costi sono veramente irrisori perché nell'ambito delle attività culturali dove noi riserviamo in un bilancio già ristretto è totalmente orientato ai benefici da dare agli studenti riserviamo piccole quote, stiamo parlando di 10.000 euro nel totale di tutte le iniziative che noi realizziamo in un anno e lo facciamo ovviamente con la collaborazione di tanti quindi in qualche modo capisci benissimo che non fai nulla con pochi però hai la possibilità di attivare dei percorsi e poi la volontarietà, la disponibilità dei tanti che ci stanno collaborando permette la realizzazione delle innumerevoli iniziative che abbiamo messo in campo questa di Gio Petrosino tra l'altro in collaborazione anche con l'Associazione Internazionale Gio Petrosino con l'Associazione Gio Petrosino di Palermo e con i Rotari di Palermo permette anche la concessione di borse di studio a laureati in giurisprudenza che abbiano in qualche modo tesi collegate al problema dell'antimafia nel ricordo del primo martire ucciso dalla mafia che era Gio Petrosino che viveva e albergava proprio nell'Hotel de France quella struttura a cui facevo riferimento prima ed è morto il 12 marzo e proprio il 12 marzo di quest'anno faremo la manifestazione di ricordo la concessione della borsa di studio e abbiamo attivato insieme una scuola di teatro che partirà a breve proprio nel ricordo di Gio Petrosino ma tu sai invece che noi in quanto la mia società in quanto Panastudio Caseditrice ha un progetto musicale su Gio Petrosino e allora abbiamo sicuramente la possibilità di collaborare ce lo prendiamo subito come impegno ti proporremo e mi ha incuriosito molto proprio questo mando perché noi lavoriamo da un anno e mezzo su questo progetto di musiche su Gio Petrosino ricordando che è una cosa che secondo me cade a pennello il 12 marzo possiamo essere già operativi siete ospiti nostri nell'iniziativa che faremo nel ricordo di Gio Petrosino tra l'altro ho filmato da un grande compositore palermitano che è Mario Modestini ma infatti lui fa parte dell'associazione Gio Petrosino di Palermo che collabora con noi quindi già sapete questa cosa Mario Modestini allora è probabile che già vi ha proposto le musici di Gio Petrosino loro stanno seguendo il loro percorso, io magari lo vengo a sapere dopo però loro stanno già lavorando stasera incontrerò l'associazione Gio Petrosino e i suoi componenti e ci sarà pure lui esatto, e me lo saluti a questo punto assolutamente Alberto, una cosa devo fare una domandina quella piccante e cattivella chi ti ci ha portato? tu sei stato raccomandato politicamente da qualcuno perché andare gratis in un centro così importante con responsabilità importante non so se sei più incosciente o più fortunato perché sei stato in qualche modo coinvolto in questo periodo che ci sia l'incoscienza che è legata al fatto del mio ruolo universitario il fatto che il rapporto con gli studenti ti porta comunque poi a vivere e avere quasi il bisogno di continuare a avere il rapporto con gli studenti quello è la mia vita così mi mantengo giovane quella è la mia vita così mi mantengo giovane ma è bello il rapporto con gli studenti vedere e avere la possibilità di dare agli studenti il proprio contributo per la loro crescita professionale sicuramente entusiasmante quindi coinvolgimento poi all'ente regionale su indicazione dell'assessore regionale alla formazione la mia segnalazione al presidente dell'Erso avviene così come è previsto e come prevede la prassi dall'assessore regionale alla formazione da lì poi la designazione va in giunta quindi l'approvazione, la condivisione da parte della giunta e ovviamente del presidente della regione poi la commissione affari istituzionali per la verifica dei titoli e quindi ulteriormente all'assessorato alla formazione per la indicazione di nomina quindi un itele particolarmente lungo che passa tutta una serie di settori quindi io sono stato scandagliato abbondantemente da parlamentari di maggioranza, di opposizione di questo governo regionale e poi si è deciso ovviamente ha avuto il parere positivo dell'Università degli Studi di Palermo che è il mio ente di appartenenza quindi comunque anche il rettore allora la galla ha dato parere positivo a che venisse disegnata la mia persona all'interno della presidenza dell'Erso Tu il rapporto con il Crocetta, con il presidente è buono? Io non ho avuto modo di conoscere una volta, l'ho salutato, l'ho incontrato ma soltanto quella volta quindi non ho avuto rapporti direttamente con il presidente della regione siciliana Ma è probabile che anche il Crocetta non sa cosa è l'Erso No, non credo Non credo Vabbè, non so se lui non si è laureato quindi probabilmente Non lo so No, credo che lo sappiano Sarai informato su questo Sì, assolutamente Ma tu taccia la mia Dici tu Ma ci sta pure Assolutamente Invece, secondo te questi giovani che comunque in qualche modo tu attraverso l'ente che presiedi li aiuti in qualche modo a vivere, a studiare perché se riescono a sostenere come dire un alloggio grazie a queste borse di studio questi ragazzi potranno permettersi di studiare e programmarsi molto probabilmente un futuro Ma il rapporto con questi ragazzi appunto è sul loro futuro Qual è? Secondo il tuo punto di vista Ma questi ragazzi i ragazzi di oggi vivono un momento difficilissimo da un punto di vista proprio di sostegno al diritto allo studio e noi stiamo facendo sforzi enormi la cosiddetta finanza creativa per cercare di dare il massimo possibile ma ti devo dire che effettivamente siamo non siamo nelle condizioni di dare a loro il meglio questo è sia per problematiche regionali nazionali locali comunque c'è una difficoltà perché l'assenza comunque a livello regionale di una legge per il diritto allo studio universitario si sente noi abbiamo spinto moltissimo la presenza l'individuazione di una legge regionale a riguardo che potesse finalmente normare l'intero sistema avere una certezza di riconoscimento di quota e un investimento da parte della regione sul diritto allo studio universitario che poi è fonte di ricchezza per le regioni perché se è vero come è vero che nell'ultimo triennio quadriennio che sia molti studenti della provincia di Tropa e della provincia di Egrigento non trovano più necessario vivere e studiare a Palermo ma preferiscono con i voli che ora low cost ognuno di noi si può permettere 19 euro 20 euro andare a studiare in un'altra sede universitaria al nord Italia dove hanno la possibilità di accedere più velocemente alla borsa di studio e hanno l'opportunità per merito e per disagio di accedere perché lì c'è una capienza maggiore dal punto di vista economico allora una riflessione a riguardo va fatta e lo debbono fare tutti noi abbiamo fatto quest'anno abbiamo lanciato la notte bianca per il diritto universitario l'Ersu Palermo l'ha lanciata su base nazionale hanno diritto tanti enti e in quell'occasione a Palermo abbiamo messo a confronto tutti gli stakeholder abbiamo messo la regione abbiamo messo gli studenti abbiamo messo le università gli enti l'AFAM il conservatorio l'accademia proprio per cercare di trovare soluzioni e da tutti è venuta fuori la necessità di legiferare al riguardo perché è per noi una scommessa per il futuro la presenza che gli studenti rimangano a studiare in Sicilia è un valore aggiunto che non ci possiamo permettere di perdere abbiamo perso già quest'anno dal dato che ho avuto ieri gli studenti iscritti al primo anno all'Ateneo di Palermo sono 7.700 contro gli 8.200 dell'anno scorso quindi abbiamo perso altri 500 studenti e questo è un dato preoccupante che deve imporre a chi ci amministra di riflettere perché non ce lo possiamo permettere per noi i giovani sono veramente la risorsa non è tanto un luogo comune nella realtà dei fatti in termini proprio di impatto economico di PIL di quant'altro le occasioni che i giovani possono darci ovviamente in termini di sviluppo economico e di innovazione li dobbiamo poi le occasioni di confronto che i giovani abbiano all'estero sono utilissime e ci debbono essere però valorizzare la propria terra il proprio luogo di residenza o di nascita che sia è assolutamente importante per dare ancora fiducia e futuro a questa nostra terra non pensi che manchi anche un altro collante che è quello tra università e imprese anche se quelle siciliane sono veramente piccole perché è chiaro che andare al nord hai anche la fortuna se per esempio segui una facoltà di comunicazione che riguarda più il mio ambito il mio campo hai possibilità di andare a fare un tirocino a media se ti rispetto un tirocino fatto una piccola televisione locale dove non hanno manco io ci credo poco al fatto del territorio è vero tutto quello che tu dici la difficoltà ma proprio con la capacità di oggi di spostamenti che abbiamo il luogo fisico è veramente limitato uno che è in grado poi io lo ritrovo in tantissimi giovani che vedo un po' in giro per il mondo a lavorare io credo che se tu riesci le nostre realtà io vivo la realtà della scuola di medicina devo dire che tanti giovani laureati specializzati a Palermo poi ritrovano spazio in tante parti del mondo quindi vuol dire che comunque l'insegnamento non è male quindi riusciamo a produrre dei buoni professionisti e poi le opportunità che tu venga da Palermo o da Roma a partecipare al bando comunicazione di Mediaset a cui dicevi tu credo che cambi poco l'importante è che comunque possiamo essere in grado università enti universitari per la loro parte enti regionali per il diritto dello studio di formare una classe dirigente una classe di professionisti in grado di confrontarsi con chiunque bene allora Alberto abbiamo quasi chiuso questa puntata se tu adesso rivolgendoti magari a quella telecamera che hai di fronte dovessi dare un messaggio ai giovani studenti siciliani per non farli scappare dalla Sicilia se abbiamo come dire l'opportunità di dare un suggerimento che possa essere utile non falso cosa diresti per rimanere per dire tentata la carta dell'università siciliana piuttosto che io lo aggancerei alla valorizzazione del rispetto del legame che ognuno di noi ha con la propria terra c'è l'autore del piccolo principe che dice il vero lusso nella vita sta nei rapporti umani ecco dalla valorizzazione del proprio rapporto della propria famiglia cercare di formarsi da noi e portare poi come curriculum quella che la caratteristica e la forza della nostra sicilianità sarà per loro un valore aggiunto che permetterà a loro di confrontarsi con chiunque nel mondo e di averla sempre vinta perché questo carattere forte nostro siciliano poi alla fine raggiunge sempre l'obiettivo e se poi lo raggiungiamo anche dal punto di vista della scelta politica di chi un domani dovrà amministrarci che anche quello influirà molto sul futuro quello dipende da tutti chi ci rappresenta è l'espressione di tutti noi e quindi di conseguenza se la capacità culturale di ognuno di noi più è elevata più forte e più convinta ci permetterà sicuramente di scegliere sempre al meglio bene grazie Alberto Firenze per essere stato grazie a voi oggi con noi ti diamo veramente un in bocca al lupo grande per tutte le attività che svolgerai da oggi in poi e ancora di più per questi progetti europei che nessuno ad oggi ci aveva pensato e tu hai messo in macchina una grande ulteriore opportunità che può avere una piccola ancora una piccola ma guarda io dico ogni piccola ogni figata di muschera è sostanza sfruttiamo ogni opportunità che arriva soprattutto quella dell'Europa e noi ne abbiamo fatte scappare veramente tante e questo non può essere più accettato da nessuno di noi da noi cittadini e da voi che siete gli amministratori di questa terra di Sicilia grazie ancora Alberto grazie a voi grazie a te grazie a te